proviamo proviamo a cominciare anche se con un quarto d'ora di ritardo bene ok oggi faremo una reazione sulla parasha sulla parasha della settimana che è parasha di toledot che hanno parasha molto particolare confesso che ho un po di difficoltà a fare la lezione perché è una parasha enorme che chi chiederebbe molto più tempo dello spazio che abbiamo questa lezione diremo alcune cose come al solito però vorrei cominciare con una tefillah una tefillah che chiede a kadosh barohu di la guarigione di tutti i malati sono persone che non stanno bene quindi chiediamo a scena di guarire tutti i malati e di farci uscire presto speriamo da questa situazione difficile leggiamo per prima cosa due mismo rete il lima quindi che sono nel salmo 20 e salmo 121 l'amnesech mizmoori david atta i dati kioshiano è mishikho i anèo mishmèkot'sho bivuot yesh yimino ellei barekheve, ellei bassusim e l'anahno misham adonai elohenu n'azgir, em makareru v'nafalu, e l'anahno kamenu meni t'odad adonai oshia amalach i anèno b'yon korenum shir l'malot tessahena elah arim e'voo ezgrim e'im ha'donai osseh amain v'ariz aliten l'amot reglecha alyanum shomerecha in eluyanum v'lo yishan shomere Yisrael adonai shomerecha, adonai tzedekha yad yimenecha yom amashem eslo yakeka v'yerech balaila adonai yishmocha mikol ram yishmoret nfeshcha adonai yishmocetcha v'vooecha ma'ata v'adola amam che al shem ascolti le nostre tre fillotte bene parasha di toledot parasha di toledot al centro della parasha come argomento centrale di questa parasha una divisione una divisione all'interno di una famiglia che e' la famiglia del secondo patriarca cioè di yitzhak la divisione e' la divisione drammatica fra i due figli cioè fra Yacov e Esav in realtà questo tema non e' un tema nuovo in Bereshit e nella Torah in generale il tema e' quella della divisione fra fratelli e della lotta fra fratelli il tema della lotta fra fratelli in realtà e' un tema molto presente molto presente in tutta la Torah la Torah comincia sostanzialmente con una lotta fra fratelli la prima lotta fra fratelli che e' una lotta terribile drammatica una lotta che in cui abbiamo il primo omicidio della storia e' la lotta fra Cain e Evel fra Caino e Abel Cain come sapete uccide Evel e da li comincia una storia che e' una storia drammatica in realtà ma anche il libro ma il libro di Bereshit si conclude anche con la lotta fra fratelli comincia con la lotta fra fratelli si conclude con la lotta fra fratelli ed e' la divisione fra i figli di Yaakov la divisione fra Yosef e i suoi fratelli la conclusione del libro di Bereshit le ultime parashot del libro di Bereshit sono su questo in realtà hanno questo argomento la divisione all'interno della fine di Yaakov la divisione che si ricompone questo è l'happy end in qualche modo di Bereshit quella divisione si ricompone la prima divisione fra Cain e Evel si conclude in maniera terribile in maniera tragica con l'uccisione di Evel da parte di Cain il libro di Bereshit invece si conclude con la la ricomposizione della lotta fra Yosef e i suoi fratelli quei fratelli che si abbracciano che si congiungono con la famiglia che ritorna unita bello però diciamo che questo tema è un tema molto presente nel libro di Bereshit il tema della lotta fra fratelli è un tema assolutamente presente bene in questa parasha abbiamo la divisione fra fratelli abbiamo una divisione fra fratelli di che divisione si tratta in che famiglia ci troviamo la famiglia è una famiglia importante è la famiglia di Yitzhak e di Rilka ed è una famiglia in cui in teoria questa divisione non doveva esserci perché Yitzhak e Rilka sono una coppia una coppia molto unita c'è un amore profondo fra Yitzhak e Rilka come succede con varie coppie della Torah è una coppia sterile è una coppia che non ha figli Yitzhak prega per avere dei figli prega per avere dei figli questo è un po' l'inizio di questa parasha prega per avere dei figli però prega per avere dei figli da Rilka se forse ve lo ricordate ma Abram il primo figlio lo avrà da un'altra donna che la stessa Sarà gli darà che è Agar Yitzhak invece vuole un figlio soltanto da Rilka Yitzhak non sposerà mai un'altra donna Yitzhak rimarrà legato per tutta la vita a una sola moglie quindi una famiglia teoricamente molto unita eppure in questa famiglia molto unita scopre un problema ma un problema fra i due figli che nasceranno alla fine nasceranno miracolosamente da Rilka che non può avere figli fino a quel momento nascono questi due figli i due figli sono due gemelli quindi siamo davanti al massimo di uguaglianza possibile insomma i gemelli sono gli uguali per eccellenza eppure non si può immaginare niente di più diverso i due gemelli i due figli gemelli che sono Yacov e Esav sono profondamente diversi fra loro non solo sono profondamente diversi fra loro ma questa diversità in realtà l'abbiamo già dal momento del concepimento di questi due figli già dal momento in cui Rilka è incinta Rilka è incinta senta qualcosa che succede dentro di lei i due figli si lottano si rincorrono non si capisce bene cosa succede comunque Rilka senta qualcosa che non va e la Torah ci dice va a cercare Dio chiede a Dio di darle una risposta e Dio le dà una risposta la risposta che da Dio è una risposta molto pesante in realtà Dio le dice due popoli sono al tuo interno e due nazioni dalle tue viscere si separeranno e una nazione sarà più forte dell'altra verav yavod sair e il più grande servirà il più piccolo servirà il più giovane bene quello che gli viene profetizzato da Dio è una divisione fra i due figli è una divisione che parte dall'inizio due popoli due nazioni due nazioni che si separano non solo semplicemente due nazioni quello che gli viene detto che saranno due nazioni però queste due nazioni non saranno non vivranno tranquillamente insieme ma si separeranno e saranno in lotta perché dice che una nazione sarà più forte dell'altra perché specificarlo per dire che sono in lotta e il più piccolo il più grande servirà al più piccolo attenzione in questa profezia non c'è soltanto la profezia della separazione e della divisione ma c'è anche qualcos'altro non si parla di bambini non si parla di bambini che nasceranno e che avranno un carattere diverso si parla di nazioni si parla di popoli e qui è un altro elemento di questa parasha in questa parasha in realtà si viaggia su due piani da una parte si parla di due bambini di due ragazzi di due uomini che a un certo punto diventeranno uomini ma dall'altra si parla di due nazioni perché questo sono Yaakov e Esav Yaakov e Esav sono due esseri umani sono due persone ma sono anche che è l'origine di due nazioni e queste due nazioni che quello quello che ci viene detto è che queste nazioni saranno in conflitto saranno separate in conflitto quindi in realtà viaggiamo su due piani il piano della storia di due persone e il piano di una storia molto più ampia di una storia molto più grande che è la storia di due nazioni questi due piani saranno due piani che troveremo in tutta questa prescia e quindi e quindi questo è un elemento un elemento da chiaramente da studiare non faremo il tempo a studiarlo in questo in questa breve lezione ma questo è un elemento importante normalmente questo elemento lo si attribuisce al Midrash normalmente si dice sì sono i Midrashim che identificano i due figli con due nazioni no è sbagliato non sono i Midrashim che identificano due figli con due nazioni è già la Torah che identifica i due figli con due nazioni è già la Torah che nella profezia di Dio Arifka parla di due nazioni bene questi due figli sono diversi fra loro questo è quello che ci viene detto lo sono nel momento del concepimento lo sono nel momento della nascita già nel momento in cui nascono sono diversi e la Torah ce li presenta in maniera diversa in che modo ce li presenta da una parte di Esav ci dice come è fatto fisicamente e ci danno una descrizione abbastanza particolare è una coperta di peli una specie di coperta di peli di mantello di peli che sembra non la nascita di un bambino sembra la nascita di un adulto e poi di Jacob invece ci viene detto che prende afferra il calcagno del fratello ok è una è un'immagine molto nota è una parasha molto nota tutta questa parasha è molto nota però è interessante una cosa che nel descriverceli la Torah usa due criteri diversi per descrivere Esav usa il criterio della descrizione fisica per descrivere Yaakov usa il criterio di ciò che Yaakov fa e di ciò che Yaakov pensa in qualche modo e quindi già nella descrizione c'è una differenza già nei criteri di descrizione c'è una differenza dopo che questi due bambini diventano grandi e diventando grandi diventano ancora più diversi Esav e Ish Sadeh così ci viene descritto dalla Torah è un uomo di campo un uomo che vive nel campo un uomo che vive all'interno della campagna un uomo che caccia è un cacciatore Yaakov invece e Ish Tam è un uomo semplice integro che risiede nelle tende da una parte un uomo che vive nel campo dall'altro un uomo che risiede nelle tende cosa voglia dire tutto questo beh chiaramente qui ci sono le interpretazioni del Fahamim c'è l'interpretazione famosa di Rashid che dice che Issaid o Yodea Zaid un uomo che conosce la cacciagione non vuol dire semplicemente che è un cacciatore ma vuol dire che è un uomo che è in grado di ingannare che è in grado di imbrogliare le persone Yaakov e Yoshevo Alim secondo una famosa interpretazione del Midrash Yoshevo Alim vuol dire che studia che studia non importa quello che ci viene detto che sono due persone molto diverse ma in cosa consiste la differenza beh io per spiegare in cosa consiste la differenza vorrei fare riferimento a un episodio molto famoso di questa parasha però nonostante sia molto famoso è un episodio in realtà difficile da capire e poi spiego il perché qual è l'episodio famoso l'episodio famoso di questa parasha è l'episodio della cosiddetta vendita della primogenitura cosa ci racconta questo episodio beh questo episodio ci racconta che Esav Yaakov stava cucinando una minestra una minestra di lenticchie Esav viene dal campo viene dalla caccia e vede questa minestra di lenticchie e dice fammi letteralmente fammi trangugiare da questo rosso rosso fammi mangiare questa roba rosso e Yaakov come risposta gli dice va bene ma vendimi la tua primogenitura se mi vendi la tua primogenitura io ti faccio mangiare la minestra di lenticchio Esav gli dice risponde io sono uno che ogni giorno può morire a cosa mi serve la primogenitura cosa ci faccio con la primogenitura l'amma libechora Esav vende la primogenitura a Yaakov e Yaakov gli dà da mangiare la minestra di lenticchie e l'episodio si conclude in questo modo con Esav che mangia beve si sazia e va ives Esav e Esav disprezza la primogenitura bene questo è l'episodio è un episodio che credo conosciamo tutti è un episodio che ci è stato raccontato quando eravamo bambini è un episodio che abbiamo studiato all'elementare eccetera eccetera quindi l'episodio è molto molto però questo non vuol dire che sia un episodio facile da capire perché non è un episodio facile da capire perché pensiamoci a cosa serve raccontare questi episodi la risposta è serve per far capire che Yaakov ha comprato la primogenitura da Esav quindi ha diritto alla primogenitura in quanto l'ha comprata da Esav sì però se andiamo a leggere quello che avviene dopo ci accorgeremo che lui di questa di questo acquisto non farà alcun uso perché perché quando vorrà ottenere dai dal padre l'Aberach sul suggerimento della madre lui si traveste da Esav si mette le pelli vi ricordate Yaakov poteva presentarsi dal padre e dire io ho comprato la primogenitura invece non si presenta e non rivendicherà mai questo acquisto non dirà mai io ho diritto alla primogenitura perché l'ho comprata non lo dirà mai non considererà questo un diritto acquisito perché non lo considero un diritto acquisito ma perché si può comprare una primogenitura ma pensate veramente che si possa comprare la primogenitura pensate veramente che una cosa del genere sia un oggetto da acquistare e la cosa sa benissimo che una primogenitura non si compra e quindi non ci pensa neanche lontanamente a dire al padre guarda ho acquistato la primogenitura non so Isaac nonostante il nome non è uno che ride molto ma forse in questo caso sarebbe fatto una risata se di raccogli fosse venuto da Isaac e fosse guarda io ho un bel contratto di acquisto della primogenitura Isaac non so se avrebbe riso ma sicuramente non avrebbe dato nessuna importanza a questo acquisto e infatti Iacov che non è assolutamente stupido questa cosa non la dirà mai ma allora cosa serve tutta questa scena a cosa serve Iacov che dice questo rosso rosso Iacov che divende che compra la primogenitura ma cosa serve tutta questa faccenda che cosa ci viene a raccontare tutta questa faccenda in realtà non ci viene a raccontare che c'è un diritto che è stato acquisito non ci viene a raccontare questo perché questo non ce lo può raccontare ci viene a raccontare qualcosa su chi è Esav e chi è Iacov in realtà l'episodio della vendita della primogenitura è un episodio fondamentale fondamentale per farci capire chi è Esav che cosa ci fa capire beh Esav arriva dal campo e chiede attenzione non chiede mi fai mangiare un po' di minestra di lenticchia Esav chiama questa roba questa roba rossa questo rosso rosso perché non dice minestra di lenticchia ora Esav è tutt'altro che uno stupido è tutt'altro uno a cui mancano le parole è una persona intelligente assolutamente una persona intelligente lo vediamo da molti episodi della Torah che Esav è una persona intelligente e allora che senso ha dire questo rosso rosso beh c'è una caratteristica di Esav Esav è una persona che si ferma alle apparenze che cosa vede in quel momento Esav non vede la minestra di lenticchia vede una cosa rossa non sa che ancora che è una minestra di lenticchia lo capirà dopo ma in questo momento vede una cosa rossa a Esav basta vedere rosso basta questa cosa rossa è tanto importante il fatto che lui veda questa cosa rossa che addirittura questo gli dà il nome il nome al suo popolo il popolo verrà chiamato Edom Edom viene dalla parola Adom che vuol dire rosso perché è importante sottolineare il fatto che Esav vede la cosa rossa perché è importante questa cosa che cos'è la primogenitura a cosa serve la primogenitura perché è importante la primogenitura in realtà la primogenitura è importante per un motivo fondamentale al primogenito verrà data la guida della famiglia il primogenito sarà quello che erediterà dal padre la guida della famiglia però attenzione non stiamo parlando di una famiglia qualsiasi stiamo parlando della famiglia che darà origine al popolo ebraico quindi il primogenito sarà il padre del popolo ebraico che cosa ci vuol dire la Torah raccontandoci questo episodio che Esav non può essere il padre del popolo ebraico Esav non può essere il padre del popolo ebraico perché gli manca una caratteristica la caratteristica che deve essere la caratteristica fondamentale del popolo ebraico la capacità di andare a fondo la capacità di non fermarsi alle apparenze Esav è un uomo che si ferma alle apparenze non perché non ha la capacità di andare a fondo ma perché non gli interessa andare a fondo Esav ha tutte le capacità di questo mondo Esav è un uomo estremamente intelligente ha tutte le capacità di questo mondo ma Esav si ferma alle apparenze perché è un uomo per cui le apparenze sono importanti Yacom invece è l'uomo che va a fondo in ogni momento in ogni momento vede una cosa ma pensa già a un'altra cosa bene questa forza è una delle caratteristiche fondamentali del popolo ebraico è una delle caratteristiche richieste al popolo ebraico al popolo ebraico viene richiesto di non fermarsi mai alle apparenze di non fermarsi mai alla cosa che vedo in quel momento ma attraverso la cosa che vedo in quel momento devo vedere qualcos'altro devo riuscire a vedere qualcos'altro devo essere capace di vedere qualcos'altro faccio soltanto un esempio noi mangiamo un pezzo di pane beviamo un bicchiere d'acqua è la cosa più banale di questo mondo però noi beviamo un bicchiere d'acqua e facciamo una berah in cui diciamo che Dio ha creato l'acqua ha creato tutto mangiamo un pezzo di pane e diciamo che Dio ha tirato fuori il pane dalla terra che operazione c'è in questa berah che noi facciamo l'operazione è io non mi fermo al pezzo di pane ma tento di capire qual è l'origine di questo pezzo di pane nel momento in cui io mangio un pezzo di pane mi chiedo qual è l'origine di questo pezzo di pane se ci pensate tutto l'ebraismo è così tutto l'ebraismo è non fermarsi a ciò che ho davanti ma tentare di andare alle radici tentare di andare alle origini questo è tutto l'ebraismo e Sav è quello che si ferma al rosso e quindi quello che ci vuol dimostrare questo episodio è che qualunque giudizio noi diamo del cavestimento di Jacob dell'inganno di Jacob che avverrà dopo attraverso cui Jacob prenderà la berah quello che il testo ci vuol comunicare signori rendetevi conto che Sav non può essere il padre del popolo ebraico non può essere il padre del popolo ebraico uno che vede semplicemente la cosa rossa non può essere il padre del popolo ebraico uno che non riesce ad andare oltre le apparenze questo è quello che ci vuole raccontare in quell'episodio e ci dice la differenza profonda abissale fra Jacob e Sav bene questo è un elemento e credo che sia un elemento importante però se è così ci rimangono comunque una serie di domande su questa prescia ce ne sono moltissime di domande su questa prescia poi vorrei farne una una domanda che è classica su questa prescia la domanda è questa va bene ma se è così se Sav è questa persona superficiale che si ferma le apparenze che non può essere la guida del popolo ebraico il padre del popolo ebraico perché la Torah invece ci racconta che Yitzhak amava prediligeva Esav perché Yitzhak amava Esav se Esav è questa persona inadatta inadeguata a guidare il popolo ebraico perché Yitzhak ama Esav ora a questa domanda ci sono varie risposte una risposta è che Yitzhak ama Esav perché Esav lo inganna questa è la risposta che troviamo in realtà nel commento di Ash vi ricordate ve l'ho detto prima c'è scritto che la caccia era nella bocca di Esav che significa che era una persona in grado di ingannare caccia nel senso di trappole di persone in grado di ingannare Esav e Esav ingannava suo padre si presentava in un modo diverso da com'era in realtà e quindi Yitzhak viene ingannato dal figlio la domanda a questo punto dovrebbe essere ma perché inganna suo padre riesce a ingannare suo padre e non riesce a ingannare sua madre che invece sa benissimo com'è Esav la risposta da un maestro dell'Ottocento che è il Maghid Midubno dice Yitzhak è uno più facile da ingannare il problema non è un problema di intelligenza Yitzhak sicuramente è una persona di grande intelligenza nonostante questo però Yitzhak è un uomo facile da ingannare perché è facile da ingannare perché Yitzhak ha vissuto per tutta la vita in una famiglia in cui la rettitudine era il pane quotidiano e quindi non riesce a vedere l'inganno è un uomo che non riesce a vedere l'inganno Yitzhak invece è una grande è una giusta una persona grande anche lei è molto intelligente però è una giusta però Yitzhak non viene da quel tipo di famiglia viene da una famiglia in cui l'inganno gli imbrogli sono sono parte della vita di quella famiglia il fratello di Yitzhak è la van che è un personaggio che impareremo a conoscere fra qualche tempo già dalla prossima parola in realtà la van è l'esempio di inganno di imbroglio pensate soltanto che la van è quello che promette una figlia a Yitzhak e poi viene da un'altra li sostituisce la figlia nel momento del matrimonio e questa è soltanto una degli inganni di la van quindi Rivka è una che ha vissuto con la van e avendo vissuto con la van sa benissimo che cosa vuol dire inganno sa benissimo che cosa vuol dire imbroglio e quindi Rivka è in grado di capire gli inganni di Esav meglio di Yitzhak questa è una risposta la risposta che in qualche modo Yitzhak non vede non vede il figlio per quello che è poi vorrei provare a dare un'altra risposta provare a dare un'altra risposta provare a dire invece che Yitzhak capisce benissimo chi è il figlio e nonostante questo lo ama ci sono vari elementi in questa parasha che dimostrano che Yitzhak capiva che Yitzhak ha capito chi era il figlio non possiamo elencarli ma ci sono vari elementi che giustificano questa interpretazione quindi proviamo a dare un'altra interpretazione Yitzhak non è vero che Yitzhak non capisce non è vero che Yitzhak si fa ingannare Yitzhak capisce benissimo e allora perché I'm myself e qui vorrei anche qui dare due risposte diverse prima risposta la prendo da un da una commentata parasha di Rab Jonathan Zaks in cui a sua volta cita un grande maestro del novecento che è Rav Kook si racconta che un giorno un ebreo un ebreo religioso si presentò da Rav Kook e gli disse che era disperato disperato perché suo figlio aveva abbandonato la Torah aveva abbandonato il mitzot addirittura non voleva essere più neanche ebreo e beh questo padre è disperato io gli ho dato un'educazione ebraica io ho dimostrato quanto attiene essere ebreo eppure mi è successo questo Rav Kook gli pone una domanda gli dice quando tuo figlio si comportava come tu volevi lo amavi? e lui dice certo tantissimo bene adesso lo devi amare di più adesso che si comporta male lo devi amare di più ecco questa è una possibilità di interpretazione Isaac sa benissimo che il figlio che esave il figlio sbagliato che esave il figlio che si comporta male ma proprio per questo lo ama di più lo ama di più perché ha più bisogno di amore dell'altro figlio ha più bisogno di essere amato dell'altro figlio ha più bisogno di essere avvicinato dell'altro figlio questa è un'interpretazione questa è una possibilità di interpretazione poi io voglio portare una terza interpretazione sempre in questa linea un'interpretazione che possiamo dedurre da uno stranissimo commento di Rashi a un verso di questa parasha vi ricordate ritorniamo un po' indietro è il momento in cui Rivka va a chiedere a Dio di spiegarle cosa sta succedendo questa gravidanza terribile questa gravidanza così sofferente di e Dio gli dice che abbiamo tradotto due popoli dentro di te nelle tue viscere ci sono due popoli però Rashi nota una cosa nota che la parola Goim è scritta senza la vava e si potrebbe leggere Geim ora Geim Rashi lo traduce due persone importanti quindi non sarebbero due popoli ma due persone importanti e fino a qui va bene è un'altra interpretazione di questa parola ma poi Rashi si lancia raccontando un Midrash e racconta il seguente Midrash chi sarebbero queste due persone importanti sarebbero Antoninus Verabi Antonino e Rabbi e Rabbi Yehuda Anasi Antonino è un imperatore romano Rabbi Yehuda Anasi è Rabbi Yehuda Anasi il grande maestro Rabbi Yehuda Anasi colui che ha scritto regatto la Mishina bene qual è la caratteristica del rapporto fra Rabbi Yehuda Anasi e questo Antonino quindi sono due game in questo senso attenzione nel senso che due persone importanti da una parte Antonino imperatore dall'altra Rabbi Yehuda Anasi personaggio importante Rabbi Yehuda il principe quindi persone importanti però attenzione le persone si poteva scegliere molti esempi di persone importanti insomma non mancano le persone importanti però scegli Antonino e Rabbi perché è strana la scelta ora noi qui stiamo parlando di Jacob e Esaf che sono due persone diverse fra loro in conflitto fra loro che arrivano addirittura a odiarsi veramente Jacob non odierà mai Esaf ma Esaf odierà Jacob lo dice in maniera esplicita Antonino e Rabbi non siamo le persone adatte per rappresentare Jacob e Esaf perché Antonino e Rabbi erano i rapporti di amicizia nonostante come sapete il rapporto fra ebrei e romani non sia stato dei migliori anzi spesso è stato pessimo però Antonino e Rabbi fanno eccezione Antonino è un imperatore romano Rabbi è il leader spirituale non solo spirituale del popolo ebraico eppure sono i rapporti di foro di stretta amicizia si stimano moltissimo e sono i rapporti di questo tipo non solo addirittura si dice che Antonino alla fine della sua vita sarebbe convertito all'ebraismo tale era la stima che aveva per Abiro Danasi bene ma perché nel momento in cui si parla di Jacob e Sav cioè di due persone che sono divise diverse fra loro separate su tutto in conflitto fra loro si porta come esempio due persone che non erano affatto in conflitto fra loro che si amavano che erano in rapporti di amicizia perché una cosa del genere bene non lo sappiamo in realtà Rashi non ce lo dice ma io voglio portare un'ipotesi l'ipotesi è che questa storia poteva anche finire in maniera diversa cioè la storia di Jacob e Sav poteva finire in maniera diversa abbiamo detto Jacob e Sav sono due persone profondamente diverse e Sav non potrà mai essere la guida il padre del popolo ebraico perché gli mancano le caratteristiche per essere la guida del popolo ebraico però questo non significa necessariamente che queste due persone debbano essere necessariamente in conflitto possono essere persone diverse che si integrano a vicenda che sono complementari c'è una possibilità del genere le persone sono diverse ci sono persone diverse eppure le persone diverse si possono integrare fra loro in che modo beh Sav è un uomo portato per i beni materiali per questo mondo per occuparsi di questo mondo e Sav sa farlo molto bene e Sav è un uomo che sa fare molto bene sa occuparsi molto bene di questo mondo sa occuparsi del campo sa occuparsi della cacciagione sa occuparsi di tante cose lo dimostrerà nella sua vita e Sav diventerà un uomo molto ricco un uomo che svilupperà il suo popolo il paese in cui viverà eccetera eccetera Yaakov invece che tipo di uomo è? beh Yaakov è un uomo di spirito Yaakov è un uomo che si occupa dello studio che è un uomo che si occupa dell'approfondimento un uomo che vuole andare continuamente oltre le apparenze bene questi due uomini possono convivere? perché no? potrebbero convivere potrebbero convivere potrebbero essere complementari l'uno verso l'altro esiste un esempio del genere? sì che esiste un esempio del genere esempio di convivenza di questo tipo? sì che esista la abbiamo secondo un famoso Midrash fra due figli di Yaakov che sono Issachar e Zevolun Issachar è l'uomo dello spirito è l'uomo che studia Zevolun è invece il commerciante è l'uomo che si occupa di cose pratiche bene Issachar e Zevolun secondo un famoso Midrash sono molto uniti fra loro Issachar si dedicherà allo studio Zevolun si dedicherà al commercio ma manterrà Issachar allo studio si preoccuperà del bene materiale di Issachar quindi si può essere complementari si può essere fratelli molto diversi fra loro ma complementari bene forse Rashi ci vuole presentare uno scenario possibile che non si è realizzato ma che poteva forse realizzarsi che si realizzerà in futuro Yaakov e Esav potevano essere due figli diversi che si completavano l'uno con l'altro questo non succede e in qualche modo Yaakov dovrà essere anche Esav in qualche modo Yaakov dovrà prendere anche il posto di Esav non dovrà essere solo Yaakov ma dovrà anche prendere il posto di Esav questo è un altro tema di questa parasha perché in realtà non si è realizzato la possibilità che Yaakov e Esav si completassero a vicenda forse forse ripeto forse Ischak aveva un programma del genere forse Ischak aveva un programma in cui i due figli potessero vivere insieme e completarsi a vicenda e integrarsi a vicenda non vede che questa cosa non è possibile non è possibile fra Yaakov e Esav perché c'è un conflitto interno perché Esav non è Zevolun ma è un altro tipo di persona però forse questa è una possibilità di interpretazione dell'amore di Ischak nei confronti di Esav forse Ischak non vede Esav come un figlio perso ma come un figlio che può integrarsi con Yaakov forse Ischak ha sempre pensato e ci sono delle prove nella parasha ha sempre pensato che Yaakov sarebbe stato la guida del popolo ebraico ma forse pensava che Esav poteva essere complementare a Yaakov e poteva aiutarlo nella guida del popolo ebraico però questo non si realizza quindi Ischak si sbaglia nel vedere il futuro però questo lo dice sempre Ischak però ci sono degli errori che che vanno giudicati benevolmente e questo è uno degli eroi che può essere giudicato benevolmente bene chiudiamo qui non abbiamo assolutamente completato questa parasha questa parasha è una parasha estremamente importante questa storia è una storia estremamente importante che può essere ovviamente approfondita in maniera molto diversa abbiamo lanciato qualche suggerimento qualche suggestione di approfondimento un giorno forse approfondiremo di più ci abbraccia Roma a tutti grazie di avermi ascoltato grazie anche della pazienza per i problemi tecnici che abbiamo avuto ci vediamo presto la prossima settimana ci abbraccia Roma a tutti grazie grazie